Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati con i post partite di Genoa-Juventus. Una partita che ci ha visto trionfare 3-0, un altro 3-0 fatto dalla Juventus nei confronti di Genoa in una partita dove nel primo tempo ci ha visto di nuovo soffrire nel trovare il primo gol, quello che sempre fatichiamo a trovare dopo tre pareggi consecutivi. Poi quel rigore che Blavio ci ha realizzato, ci ha aiutato poi a riuscire a digerire il match e poi chiudere 3-0. Poi sicuramente una volta che noi segniamo siamo la squadra più forte in Italia secondo me, è anche una delle più forti in Europa, però dobbiamo assolutamente migliorare anche quell'aspetto perché sì è stata una gran partita, abbiamo vinto 3-0, dobbiamo essere contenti, siamo secondi all'inseguimento del Napoli, ce lo giochiamo anche con Mina-Lintra, siamo lì nel vivo dell'azione, pieno del campionato, posizioni più avanzate, però dobbiamo anche cercare di trovare quello che dobbiamo migliorare. E quello che dobbiamo migliorare è assolutamente trovare il primo gol, perché veramente sullo 3-0 facciamo tanta tanta fatica con squadre che si chiudono. E quindi andiamo subito ad analizzare questa partita guardando i numeri, le statistiche, Genoa-Juventus 3-0, gol di Vlavic, doppietto di Vlavic e gol di Fonseisau, tiri totali 7 Genoa, 12 Juve in porta, 2 Genoa, 3 Juve. L'UV ha fatto 3 tiri in porta, 3 gol, quindi cosa vuol dire? Che la Juventus è molto cinica quando arriva davanti, però crea poco, perché è creato quasi come Genoa, possesso bene, 66-34, passaggi doppio su 133-326, precisione 90% noi 80% Genoa, quindi possesso c'è, precisione in passaggi te, il problema è come sono fatti i passaggi, cioè in orizzontale, non in verticale, senza verticalismo, tutti i passaggi semplici e senza azzardare la giocata. Questo è quello che bisogna fare quando si è in vantaggio, però quando si è solo 0-0 bisogna cercare di un po' andare ad azzardare i colpi, un po' andare a infierire sulla difesa avversaria. Quindi questo è quello che dobbiamo migliorare. Queste sono le statistiche, andiamo subito allora alle pagelle dopo questa mia mini analisi della partita. Andiamo alle pagelle e cominciamo da Perin, che si fa sempre trovare pronto quando ce n'è bisogno, quando deve essere lui il protagonista. Ha fatto una parata importante, solo una, ma è arrivato solo quel tiro e lui si è fatto trovare pronto. Ancora più importante è in queste partite, perché i portieri quando poi, anche personalmente dalla mia esperienza passata, posso dirlo personalmente, i portieri quando in una partita non ricevono nemmeno un tiro, dopo tanti minuti, dopo un'ora dove non è ricevuto neanche un pallone, magari è toccato due volte il pallone, devi essere il protagonista e allora è più difficile di quando ti tira un 6-7 tira alle volte. E Perin si va a trovare pronto, 6 e mezzo. In difesa, Calulu, 7, un'altra percezione di grandissimo valore del neacquisto delle Juventus preso dal Milan, che secondo me si rimboccherà le maniche, perché questo è un gran giocatore, un gran dimensore, che può far bene in tutta la stagione. 7, Bremer, il solito colosso, un punto fisso di Tiego Motte, ci credo, Bremer grandissima prestazione. È stato un giocatore fondamentale in queste prime 6 partite. 7, Danilo, 6, gli potrei dare anche 5 e mezzo, ma voglio essere buono, perché il nostro capitano deve ancora riprendersi da una condizione precaria. Si vede come fa tanti errori, come rispetto a Gatti, Bremer e anche altri giocatori come Calulu. Fa fatica, è inferiore quest'anno, l'anno scorso era uno dei migliori. Sicuramente l'età aumenta, la condizione fisica diminuisce, come poi è successo con i difensori colossali, come Chiellini, Barsalli, Bonucci. Quindi sicuramente deve ancora ritrovare un miglior condizione, al momento non è sicuramente titolare, però sempre grande grinta e grande leader, Danilone. 6, quindi li do. Rui 5 e mezzo, 5 e mezzo perché non mi ha dato una grande impressione, purtroppo Rui. Ovviamente stiamo parlando di un giovane lanciato a Gomotta, così come Bangula, così come Savona, che però i due Bangula e Savona hanno dimostrato buone cose, come si sono visti in campo. Rui è l'unico che è un po' di meno, quindi 5 e mezzo, non tanto grave, però 5 e mezzo. Un po' troppi errori di passaggio e si vede che ancora non è pronto, ma ci sarà tempo, poi mica tutti devono essere fenomeni. Meccani 6, 6 perché fa una partita normale, un 6 politico, niente di esaltante, niente di grave commesso. Una partita classica del 6. Mentre invece Faggio 7 perché è stato messo lì, gli ha dato fin giù di Tegomotto, perché Tegomotto non ha mai nessuno fisso a centrocampo, soprattutto a centrocampo. In tutta la squadra, ma soprattutto a centrocampo. E Faggio è uno di quelli che ha giocato nella scorsa partita, ha fatto molto bene, è stato messo nel ruolo di Locatelli, da regista, e ha riuscito a creare occasioni molto importanti e anche e soprattutto dopo l'1-0 a infilare grandi passaggi. 7, bene Faggio, finalmente ha donato la sua condizione. Nico Gonzale 6 e mezzo, una buona partita, niente di eccezionale, ma comunque una buona partita, da 6 e mezzo. Così come Indiz, stesso discorso, Indiz e Nico Gonzale si sono visti un po' all'inizio, quando era 0-0 sono stati migliori, poi quando la partita è sbloccata quasi ha lasciato lo setro agli altri, quindi 6 e mezzo. Mentre invece con Mainers 6, non si vede qui nelle schermate il voto, però ve lo dico io 6, perché nella prima parte ha fatto una partita da 5, nella seconda da 7. Quando il gol non si trovava anche lui faceva fatica, quando il gol si è trovato allora anche lui ha cominciato a ballare il tango, come si dice. Quindi 6 il voto, però deve migliorare assolutamente ancora quando la partita è chiusa, perché deve essere un giocatore che insieme a Blavic devono essi due che si sblocchino le partite, che devono essere loro, a essere quelli che fanno la differenza solo 1-0, perché poi solo 1-0, non dico che lo sanno fare tutti, ma quella è una cosa normale che questi giocatori devono fare, ma la differenza che fanno i fenomeni sono quando tutti fanno fatica, non quando tutti stanno andando bene. Così come Blavic, che io do sette perché non si può dare sette a una doppietta, una sui rigori sì, ma un altro gol, quando lui fa gol, lui, soprattutto fa gol lui, ma anche quando fa gol la squadra, poi dopo si sblocca e riesce a trovare i gol. Come con Menes, stesso discorso, è un giocatore che assolutamente ci deve segnare anche solo 0-0, perché i campioni, i fenomeni, quelli che abbiamo investito 70 milioni per Blavic e 60 per con Menes, 130 in due, devono fare la differenza anche solo 0-0. Però bene Blavic, bene e da qui dobbiamo ripartire per continuare a segnare. Ha fatto 4 gol, quindi comunque il capo canoniere del campionato deve continuare così, deve continuare a trovare il gol, come l'ha trovato, col Genoa in questa partita, come l'aveva trovato col Verone. Due doppiette, poi però 4 partite senza segnare. Bisogna trovare continuità, un gol ha partito, un gol ha partito, un po' come sta facendo Cristiano in questo inizio del campionato in Arabia. Quindi questo è quello che bisogna fare. Da quegli entrati, Savona 6, insieme a Turam 6, perché ha giocato non tantissimo, partite di 6 politico. Douglas Lewis 6 e mezzo, perché finalmente ci sono viste giocate alla Douglas Lewis. Speriamo che possa piano piano integrarsi nel gruppo, nella squadra, nel campionato e fare una gran stagione, perché lui è uno degli acquisti più importanti, insieme a Comenders. Così come con se sta, un giocatore fantastico, che si era visto già da subito, poi ha avuto quel sfortunato infortunio, speriamo non sia indice di una condizione fisica non top, però sicuramente ha fatto una gran partita, è un gran giocatore, grande tecnica, grande qualità, grande rapidità, velocità. 7 è il voto che si metta per questo gran gol che ha fatto l'89. E il voto del nostro mister Tiago Motta non può che essere un 7, perché comunque non 8, perché quando si vince 3-0 il 7 è dovuto, come un Lavic. Però sicuramente quello che devi migliorare per arrivare all'8 o al 9 è quello, solo 0-0, che non è una cosa da poco una cosa banale, come ho detto. Quindi devi migliorare quell'aspetto, devi riuscire a far trovare la squadra in modo per riuscire a sbloccarsi più facilmente con delle squadre anche organizzate e quindi magari, non so, provare dei tatticismi in allenamento mettendo una difesa schierata a 11 davanti alla linea difensiva e poi provare con la squadra titolare a metterla in difficoltà con frageggi veloci, agili, rapidi, verticale, verticalismo e quindi con queste cose. Quindi sicuramente è importante quello, però comunque grandi sielte, grande partita, anche gran coraggio per Tiago Motta che ha deciso di cambiare tutto nel secondo tempo mettendo con Sesao, mettendo dentro anche Douglas Lewis quindi sicuramente sielte a sdeccate. Bene Tiago, 7, c'è questo aspetto di scuovande a migliorare. E quindi ragazzi, queste erano le pagelle e post partite con l'analisi di Genoa-Juventus. Noi ci vediamo domani con il prepartito di una partita fondamentale di Champions League. L'Ipsia-Juventus giochiamo contro una delle due squadre in prima fase, insieme al City, l'Ipsia in Germania che domani andremo ad analizzare. Quindi ragazzi, ci vediamo alle video domani con una partita incredibile. Ciao a tutti ragazzi, sempre Forza Juventus! Ciao a tutti ragazzi!